L'emergenza energia elettrica sul territorio del comune di Teramo è passata, ma non troppo, visto che ci sono delle zone che sono ancora alimentate dai generatori. Generatori che in alcuni casi si spengono perché manca il carburante. Sì, purtroppo ancora abbiamo questa emergenza, abbiamo ancora molte frazioni che sono alimentate da questi generatori. L'Enel purtroppo ha qualche problemino, adesso si è affidata a due ditte Teramane per quanto riguarda il rifornimento e qualche miglioria c'è stata. Mi auguro che continuino a rifornire, mi auguro che continuino a ripristinare le linee prima possibile perché dopo 10-12 giorni senza corrente, anche un'ora adesso è esagerata. Quali sono queste zone più disagiate? Le ultime che mi arrivano, Sciusciano, l'ultima che non è stata rifornita per sei ore l'altro giorno, chiaramente io faccio da tramite per sollecitare l'Enel, mano a mano che mi arrivano le telefonate, da Sparazzano alle varie località, magari un pochettino più lontane, che praticamente rimangono senza carburante e di conseguenza provocano dei problemi. Così come ci sono dei gruppi non idonei, nel senso che l'assorbimento è maggiore della potenza del gruppo, anche qui ci sono state delle sostituzioni. Cioè, noi continuiamo a fare da tramite Enel cittadino. E i guasti quando verranno riparati? Ma su questo non so dare una risposta, questo deve darla l'Enel. Per quello che ho potuto vedere io, girando il territorio con la problematica neve, i tralicci sono quasi tutti a terra, le litie sono tutte rotte, secondo me ci forranno mesi per ristabilire tutto.